Salve a tutti ragazzi, video misterioso, registrato uno strano oggetto che poi scompare improvvisamente nei cieli della Moldavia, ragazzi vedete che forma strana, ne ho visto di cose strane ma questo mi sa che lo è ancora di più ragazzi, non lo so, guardate poi vicino ci sono altri due oggetti che hanno una forma sferica che si avvicinano, non lo so, sarà una nave madre ragazzi, non lo so, però questa forma non lo so, un po' che ne so mi pare la nave di Star Trek però guardate è scomparsa ragazzi, assurdo, vedete mi sembra la nave di Star Trek però messa al contrario ragazzi, non lo so, assurdo lo so, però che devo dire avete visto sparisce proprio nel nulla e va via quindi una frazione di secondi e ci ci non c'è più ragazzi quindi non credo che sia una cosa terrestre sarebbe quasi assurdo però che devo dire cioè oramai siamo abituati a vedere di tutto quindi non ci meraviglia più nulla come questi due oggetti si avvicinano vedete come se sono rientrati alla base questi due ufo diciamo così e poi l'oggetto svanisce nel nulla quindi teletrasportami Star Trek vedete che ecco qua quindi è andato via, è finito come sempre ragazzi mi raccomando ecco qui qua l'ho zoomato lasciate il vostro commento e ditemi che cosa ne pensate di questo video registrato nei cieli della Moldavia come sempre al prossimo video ma soprattutto ragazzi al prossimo mistero